di coloro che si laureano in legge, bisognerebbe cominciare a cambiare un po' la formazione universitaria, dopo di chiedere una volta che uno diventa giudice, la gestione dovrebbe fare i corsi di aggiornamento perché ci si ha la formazione specifica, diciamo. No, venite qua, se no la registrazione non viene. No, no, dovete venire qua a registrare. Vedete, nell'ambito universitario, anche io ho fatto l'esame di criminologia, che è però un po' 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 un po'